Sulle tavole di molti italiani e soprattutto dei romani e dei napoletani, la sera della vigilia siamo certi che non manca e non può mancare il capitone, che altro non è che l'anguilla femmina, nonostante il nome. Secondo la leggenda, per la sua somiglianza con il serpente, è considerato il simbolo del male, quindi mangiarlo durante le feste di Natale o di Capodanno è come esorcizzare il funesto e la cattiva sorte e soprattutto per fare buoni ospici per il futuro. In Italia viene allevato nella Laguna Veneta, in Puglia, ma anche a Orbetello, nel sud della Toscana. La letteratura e la filmografia sono piene di esilaranti descrizioni di lunghi pomeriggi di vigilia passati a fare la posta al capitone comprato vivo e magari sfuggito sotto i mobili, ne abbiamo tantissime testimonianze nei film di Totò e comunque della tradizione cinematografica parteno-europea. Come per esempio, ricordate la meravigliosa opera teatrale Natale in casa Cupiello? Ecco appunto, capite tutto. In questo periodo è molto facile trovarlo in pescheria, ma anche al mercato e dunque si può approfittare per gustarlo anche al di fuori del cenone di Natale, anche se questo è un tipico piatto natalizio. Piace il capitone soprattutto per il sapore molto forte che si sposa bene con le ricette in umido, ma anche va mangiato fritto come per esempio a Napoli nella tradizione agroalimentare napoletana. È perfetto quando avanza da gustare anche il giorno dopo, riciclando a Napoli dicono alla scapece come antipasto. Lo scapece infatti è un antico intingolo a base di aceto, di vino con aggiunta di aglio, origano e pepe e il capitone avanzato dalla sera prima con questa salsetta è davvero una cosa esilarante e piacevole. Per acquistare un buon capitone valgono pochissime regole, non deve pesare meno di 700-800 grammi e soprattutto deve essere vivo, poi vi spiegherò perché. Attenzione a non farvi buggerare, a non farvi ingannare perché spesso e volentieri, soprattutto nella confusione dei mercati natalizi, qualche volta a posto del capitone vi danno il gorgo, che è un pesce molto simile al capitone, anche esso sembra un serpente, ma lo potete riconoscere perché il capitone ha un muso molto allungato, mentre il gorgo ha un muso assolutamente quasi tozzo. Potete conservarlo in frigorifero non oltre le 12 ore e in alternativa però lo potete anche congelare. Vi dicevo di acquistarlo vivo perché il capitone va tagliato, cioè ucciso praticamente va abbattuto, non più di 6 ore prima del pasto, 6-8 ore prima del pasto. Quindi regolatevi nell'orario di acquisto. Quindi se lo dovete portare in cottura, in padella diciamo per le 19 per mangiarlo poi la sera a cena, dovete calcolare a ritroso le 6-8 ore e quindi farvelo diciamo tagliare direttamente dalla pescheria. Oppure se avete il coraggio potete farlo da solo a casa ma sempre rispettando questi orari. Perché? Perché nel momento in cui uccidete il capitone si scatenano una serie di tossine che naturalmente si scatenano dopo le 6-8 ore dalla morte del capitone e quindi con la cottura vengono assolutamente abbattute. Quindi non deve essere morto più di 5-6 massimo 8 ore. Chiaro? Buon appetito!